Ciò che parte da noi, la potenza creatrice del pensiero, Amadeus Volben, mediterranee, a cura di Vubbi. Pensare male di qualcuno e inviargli delle correnti malefiche che lo danneggiano, mentre, tornando poi al mittente, danneggiano pure lui. Questo è ben noto a quelli che conoscono le leggi del pensiero, per cui torna sempre a noi ciò che parte da noi. Noi siamo sempre ripagati con la stessa moneta che noi abbiamo messo in circolazione. Guardando invece il lato bello che è in ciascuno, noi aiutiamo lui e aiutiamo noi stessi. Grazie a tutti.